Buonasera siamo qui con Filippo Tecame, migliori in campo nella partita tra Pro Militanza e Aria Nord, terminata a 5 a 1 per la Pro Militanza, autori di due gol. Senti, oltre due gol perché migliori in campo secondo te Filippo? Beh ho creato molto, Portiero ha fatto delle grandi parate su tiri miei, ho cercato di far segnare a questo, forse è per questo che ha segnato migliori in campo. Ho capito, va bene, senti io la partita l'ho guardata tutta, posso dire con questo Tecame davanti si può sperare di fare meglio magari rispetto agli anni passati, no guida. Senz'altro, abbiamo trovato un buon giocatore che ci può far fare... Ho capito, è libero, ok ok va bene, con difensore si può fare, con difensore si può fare, con difensore pure abbastanza... Vabbè rimaneggiati meglio allora per quest'anno, va bene senti Tecame torniamo a te, mi vuoi dedicare i gol, il premio a qualcuno... Sono due gol un'assistica, l'assistica a lui perché è segnata... Un gol a Mirko... Un gol a Paolo... Un gol a Paolo... E un miglior giocatore a loro due... Ok va bene, ringraziamo Tecame, Pro Militanza e arrivederci alla settimana prossima... Ciao!